La location che mi è più rimasta impressa a Roma è Via del Pellegrino, dove ho girato una scena del mio ultimo film sul scomparsi Emanuele Orlandi, perché lì hanno ammazzato il capo della banda dei testacini, presunto rapitore dell'Orlandi, e mi ha colpito perché quando è accaduto questo assassino tutti i negozi della via sono stati allertati e hanno chiuso prima, a dimostrazione dell'omertà che c'era purtroppo a Roma in quel periodo.